Siamo qui alla torre dei portanuola dell'arsenale di Venezia, siamo a pochi giorni al Redentore, da qui partiranno i pontoni per i fuochi che si andranno a posizionare nel Barcino di San Marco. Il Redentore è una macchina complessa che deve condolti tutti i servizi del Comune di Venezia e tutte le società partecipate per l'organizzazione dei trasporti, della sicurezza e di tutti i servizi. Sì, siamo all'arsenale di Venezia, alla banchina dei Marani, dove stiamo allestendo le cinque piattaforme principali con gli artifici che vedete qui alle mie spalle, che saranno alternate ad altri 25 punti di lancio minori in un display lungo circa 400 metri per un totale di 30.000 artifici e 3.000 kg di materia esplodente netta.